Il prossimo 17 maggio torna la ZTL estiva nel centro Aretino con la pedonalizzazione ed alcune strade chiuse al traffico ogni fine settimana. I commercianti di Piazza della Badia hanno così già incontrato il Comune per parlare del tema sicurezza, un tavolo al quale si è seduto, oltre all'assessore Simone Chierici, anche il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini. L'obiettivo infatti è quello di far convivere gli interessi dei locali della zona e quelli dei residenti che ormai da tempo, soprattutto nei mesi estivi, denunciano una movida molesta, il disturbo della quiete pubblica, ma anche veri e propri attimi di tensione, oltre che degrado, sporcizia ed atti vandalici. In questo angolo del centro storico era già nato anche un comitato di residenti, spazio al centro, che adesso è pronta a chiedere formalmente un nuovo incontro con le forze dell'ordine e il Comune. Più volte i cittadini hanno chiesto di far valere il regolamento di Polizia Urbana del Comune, oltre che un presidio mirato della zona. Solamente qualche giorno fa, in questa zona, una spaccata in un alimentare. Il malvivente si era anche ferito sfondando la porta di vetro. Il petro è preso la cassa, poi altri danni con il petro. Un furto diciamo all'alba del mattino, perché ieri sera ho chiesto a scolparti, c'è stato un momento strano, una zona tranquilla, poi il venerdì sera non è che sia proprio... La sera è il sabato, quindi penso che il video è così. Grazie.